Durissima presa di posizione da parte delle associazioni di categoria dei commercianti di Teramo contro l'amministrazione Brucchi. La Giunta è sempre rimasta sorda alle richieste avanzate dagli operatori del settore, applicando in modo scelerato una politica miope priva di strategie che ha portato verso il baratro il futuro del commercio teramano. Così il presidente comunale di Confesercenti, Giancarlo Darui, attacca senza mezzi termini le scelte in materia di commercio fatte negli ultimi anni dalla Giunta di Centrodestra e chiede l'istituzione di un tavolo permanente per risolvere i problemi. Ci auguriamo che verremo convocati dall'amministrazione appunto per costituire questo tavolo di lavoro e per cercare di discutere le problematiche che l'amministrazione comunale già conosce da cinque anni e più. Noi non abbiamo detto niente di nuovo, abbiamo solamente voluto ricordare l'amministrazione appunto che c'eravamo anche noi e che siamo ancora in attesa di questi famosi tempi lunghi che non sono stati rispettati con gli accordi che avevamo preso durante sia le campagne elettorali che durante questi anni precedenti. Noi non siamo contrari alla ZTL oppure vogliamo l'apertura del centro storico, soltanto che vorrei chiedere a loro qual è il regolamento che attualmente vige nel centro storico. Ci deve essere un regolamento e questo regolamento lo dobbiamo far rispettare da tutti.